Il mio desiderio sarebbe stato, e tu ben lo sapevi, quello di continuare gli studi, ma per farciò erano necessari dei mezzi. Venni a consigliarmi con te, nella speranza di avere da te la spinta per compiere questo ultimo marzo. Tu mi dicesti, non possiamo permettercelo, non abbiamo mezzi sufficienti, ma tra pochi anni verrà il socialismo e tu potrai prendere la tua laurea. E tu eri certamente consapevole, senza essere un indovino, che forse il mondo sarebbe cambiato. Ma comunque allora i miei capelli sarebbero stati bianchi. La frase abituale che ti davano allora gli adulti era, dietro l'angolo, c'è il cambiamento dietro l'angolo.